buoni raga che ho capito il meccanismo vico è da palo perché qua se ne sei rimasto da palo una volta che te ne hai caposciato il tuo spoglietto del frettore del tram l'ho ripreso figo così c'ho c'è lo scopo così che stai a Sant'Angelo è una favola ce sto io dai piani ai buchi cerca di scegliere la strada lo insegna a tutti questo che stai a Sant'Angelo mi è venuto con voi nascosto il terramoto al quinto grado della Scala Ritter si vai tigre stiamo andando a porti infatti ho vinto che c'era una cosa rosa, l'Arzamama che c'era una cosa rosa che c'era una cosa rosa adesso tu quando stai la davanti vai sempre piano piano a velocità di crucera spieghi a sinistra come se andiamo da Sabella così si fa per coronato aspettiamo di nobria che si fa cambiare i soldi ci sono che c'era una cosa rosa 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 Ma com'è mai sta a far puntare la rovescia? Ci sono 6 minuti, 6 minuti e 30 Ho capito che finisce, e poi c'è la memoria A memoria di registrazione quindi c'ho soltanto altri 6 minuti Battle building Existing chapel Oh no